L'incontro di identità diverse attraverso la poesia arricchiscono il valore stesso della poesia e quest'anno abbiamo chiesto e abbiamo ospiti anche i colleghi friulani del Forlà, quelli che difendono l'identità della lingua friulana nelle zone del Veneto orientale ma anche nel mondo, quindi un incontro particolare che è uno stimolo ad estendere anche questi approfondimenti con la poesia identitaria, con la poesia in vernacolo quindi la poesia che riesca ad andare oltre le lingue ufficiali per essere veramente espressione del cuore.